Che cosa caratterizza la vostra offerta nella banca assicurazione? Sempre presente sul mercato italiano da più di 20 anni, ma negli ultimi 10 ci siamo focalizzati sul mercato delle CPI. Noi siamo diventati leader del mercato, magari il nostro brand non è molto conosciuto anche perché facciamo molta riassicurazione. Oggi comunque abbiamo più di un milione e otto di clienti nel mondo delle CPI e direi che stiamo anche utilizzando l'esperienza che abbiamo maturato fino a oggi per sviluppare nuovi mercati, tipo quello anche del mercato degli affitti. Parliamo di strategie future, su quale prodotto state puntando ora? Oggi stiamo introducendo sul mercato italiano un prodotto nel ramo del risparmio, una multiramo, visto che il mercato vita sta crescendo in modo notevole, il mercato è cresciuto più del 30% l'anno scorso e anche quest'anno sta crescendo molto, specialmente nell'ambito del multiramo. Quindi noi abbiamo un prodotto che ha sia la componente di gestione separata, ma poi anche molto sviluppata la componente Unitlink. Dal vostro punto di vista, quali sono le aree a maggiore sviluppo e la tipologia di banca più recettiva? Le banche più recettive oggi sono sicuramente le banche più medio-piccole perché sono interessate a un'innovazione di prodotto ed è quello che noi stiamo proponendo. La nostra soluzione offre una notevole personalizzazione lato cliente e quindi la banca può andare dal suo cliente e personalizzare l'investimento in base allo specifico profilo di rischio del cliente, al suo orizzonte temporale e alle sue esigenze. All'interno del prodotto c'è sia una componente di gestione separata che è fondamentale, specialmente nel mercato di oggi con dei tassi molto bassi e magari con aspettative di rialzo dei tassi sicuri. Quindi la parte di gestione separata è quella che dà tranquillità e performance, stabilità all'investimento, ma poi tutta la componente Unitlink è la parte dove poi il cliente può personalizzare il suo investimento seguendo le indicazioni anche del proprio consulente bancario.